Ciao, sono Emanuele del Birrificio Altavia. Siamo un'azienda agricola che è nata a Sassello ormai sei anni fa con l'idea di coltivare materie prime per fare la birra in modo da fare un prodotto che arrivasse direttamente dalle nostre terre, dalle nostre colline. Il Birrificio nasce come idea tra amici in cui ognuno ha la sua specializzazione. Io mi occupo della parte agricola, Giorgio che è il birraio ha studiato le ricette e ha portato avanti la parte di produzione e poi altri due amici che ci hanno aiutato a portare avanti l'impresa in sé. In questi anni siamo cresciuti e abbiamo aumentato le nostre coltivazioni, abbiamo fatto anche un piccolo allevamento di api per un discorso di tutela dell'ambiente e di utilizzo del miele autoprodotto dalle api dentro le nostre birre e abbiamo iniziato a collaborare anche con altre realtà per quanto riguarda poi l'utilizzo di ciò che rimane dopo che facciamo la birra. Infatti al fine del processo abbiamo alcuni residui che sono le trebbie che sarebbe l'orzo macinato e cotto diciamo che non viene più utilizzato e questo noi riusciamo a riciclarlo in modo attivo dandolo sia ad alcuni allevamenti che lo utilizzano per gli animali quindi andando a sostituire mangimi artificiali che andrebbero ad acquistare sia collaborando con altre realtà che utilizzano questo prodotto per fare anche carta e altri oggetti molto belli, molto apprezzati. Grazie.